Ieri con le testimoni stavamo pensando di partire per un lungo viaggio, non stare da non presentarmi oggi in chiesa, perché ho iniziato ad avere dubbi sulla nostra relazione. Vediamo dai, vediamo chi prende il buchet. Esatto, ecco, oggi ci saranno. Io anche, io... Se vedi questo video vuol dire che sono andata via e che non ti ho sposato. Ciao, scusami se puoi. Ciao, scusami se puoi. Stavo scherzando amore, stavo scherzando, mi vedrà in chiesa. C'è un ruolo. No, no. C'è un ruolo. Eppure mi avete confidato qualche giorno fa che qualcuno vi ha suggerito di leggere questi ostacoli come il segno che forse stavate facendo la scelta sbagliata. Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. La gloria tua! Io, Maurizio, accolgo te, Martina, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!